E questa dovrebbe essere la parte chitarristica, giusto? Passiamo alla parte del basso. Passiamo alla parte. Ecco, ci manca la batteria. Vai, Vioni, deliziaci. 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 E a questo punto non avete più bisogno del chitarrista perché potete fare i soli direttamente voi. E a questo punto non avete più bisogno del chitarrismo. Grazie a tutti.